Raff, 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 raff. Buon povericcio cane Yosha, buon povericcio anche te babbone. Oggi sta bene qui, oggi si sta bene fuori fa freddo, però si sta bene, certo. Cosa ne dici se andiamo antica osteria di Civesio? Davvero? Ma cane Yosha, non possiamo andare antica osteria di Civesio. Perché c'è coronavirus? Sta buono babbone, bisogna mettere delle mascherine. Sì, shh, 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 shh. Siamo tutti forniti delle mascherine, certamente. Andiamo a mangiare fuori. Lo sai che in questo ristorante si mangia piatti tipici pugliesi, pugliese. Mi fa bagnare i vestiti, questa pioggia. Però corriamo, così non ci bagniamo. Ok. Entriamo subito. Lasciati sorprendere da pizza ristorante. Una ricca farcitura su una base sottile e croccante per un gusto inevitabile. Ristorante, una pizza come nessuna. Buonasera cani domestici, siamo arrivati in un ristorante osteria di Civesio. Certo. Allora, cosa vogliamo mangiare? D'accordo. Io voglio una pasta con i fagiolini. E poi polpette di pane gustosissimo. E tu cane Yosha, io mangio cotoletta dalla milanese con il risotto milanese. Buono. Adesso ci godiamo i nostri piatti tipici e gustosi. D'accordo. Si mangia. Buon appetito. Gnam, gnam, gnam. Insieme. Bene, siamo salvi. Ne abbiamo, ne abbiamo, noi è stato bello mangiare in un ristorante antica osteria Civesio. Certamente. E noi abbiamo, io abbiamo, io ho mangiato una pizza margherita, hamburger e la carne, le patatine, le patate fritte e una fanta. Buoni dei, del, del, buono del cibo. Si, delizioso. Guarda intorno nella cuccia casa. Si, lo vedo. Ok. Ti auguro una buona serata. Grazie, cane Yoshaq. E anche te, cane Yoshaq. Buona serata. Buona serata, babbone. Bene. Entro nella cuccia. Ruff! Buona rapporte. Buona serata, babbone. Grazie a tutti